Anche Coli, paese dell'Alta Valtrebbia, è uno dei comuni piacentini in cui gli elettori sono superiori ai residenti, 888 chiamati al voto contro 873 abitanti. Tra le liste che si presentano alle prossime amministrative, Sergio Covati, 60 anni, attuale vice sindaco, la sua lista si chiama Insieme per la Nostra Valle. Ha delle repetti di 58 anni, negli ultimi anni è stata assessore al bilancio della Giunta Bertuzzi e si presenta con la lista Uniti per Coli e Perino, repetti Adele sindaco. Renato Torre, medico di 66 anni, punta al rinnovamento con la sua lista Azione in Comune. Il nostro programma elettorale prevede sei punti. Il rilancio del turismo, due l'agevoluzione per chi viene a investire in montagna, tre assistenza domiciliare per gli anziani più il taxi sociale, quattro aumentare il differenziato sulla raccolta dei rifiuti, cinque il salvataggio della scuola di Perino, sei il decoro urbano. Dopo cinque anni di amministrazione ho deciso di correre con la Lega. I punti del nostro programma sono volti al turismo e al sociale particolarmente. Sul turismo avremo dei progetti molto validi nei campi sportivi, nei centri sportivi e per quanto riguarda gli anziani e chi ne ha bisogno il sociale molto più attivo e presente sul territorio. Il nostro logo è Azione in Comune. Azione in Comune perché azione, per azione intendiamo essere attivi, da subito, capaci per interrompere quegli anni di colpevole immobilismo delle amministrazioni precedenti, per cercare di eliminare quella emorragia che ha coinvolto la nostra valle in generale.